Sono arrabbiati, anzi arrabbiatissimi, in ballo c'è il loro presente occupazionale ed il loro futuro e quello dei loro figli. Sono gli operai dell'indotto della raffineria Eni di Gela che ieri sera hanno occupato pacificamente l'aula del Consiglio Comunale durante i lavori della seduta per manifestare le loro preoccupazioni. Dopo aver saputo della bozza di programma che sarà discursa martedì 21 ottobre prossimo al Ministero dello Sviluppo Economico, si sono recati direttamente al Palazzo di Città. Agli amministratori, ai consiglieri, a tutti hanno chiesto che si facciano portavoce dei loro sacrosanti diritti. Qui si sta perdendo il lavoro e con il lavoro non si scherza affatto. Lo stabilimento fino ad oggi ha rappresentato il traino dell'occupazione in città e non solo. Convertirlo in bioraffineria, hanno detto gli operai, significa chiuderlo considerato che in pochi avranno la possibilità di lavorarci. Quella bozza di programma, ha detto il sindaco Angelo Fasulo, non la firmerò. Qui ci salviamo tutti o nessuno. La bozza non è sicuramente soddisfacente. Noi abbiamo da parlare del lavoro e abbiamo la necessità di avere certezza sul lavoro, quando partirà e quando potremo avviare quella tanto attesa conversione che non deve significare crisi, ma deve significare lavoro per le imprese e per i lavoratori. Con questo spirito, dopo aver interrotto qualche settimana fa la trattativa a Roma, torniamo a parlare col Ministero e con l'Eni. Era il 14 agosto quando il Premier Matteo Renzi venne in città alla platea e disse tra l'altro che l'Eni non deve considerare l'investimento a Gela come un tributo per quello che è stato fatto. L'Eni è nelle condizioni di farlo, mantenendo il più possibile la qualità e la quantità dell'occupazione. Ripetiamo, la qualità e la quantità dell'occupazione. Oggi, venerdì 17, ricorrenza considerata particolarmente sfortunata, le cose stanno andando in modo diverso. A cosa è servita allora la visita del Premier a Gela? Il percorso è per adesso attenzionato tanto dal Governo nazionale e tanto dal Governo regionale, ma ripeto, andiamo con la speranza di avere l'appoggio del Governo nazionale e del Governo regionale, ma sappiamo che al momento non si è definito né in termini di investimenti, né in termini di lavoro, nessun accordo. Quindi ovviamente è un momento particolarmente difficile.